È stata un'esperienza molto bella, molto utile per me, ho avuto modo di visitare una regione bella come questa, la Calabria, ho avuto modo di conoscere la gente del sud, che è una gente molto forte, mi ha colpito molto la storia di Lollo Cartisano, mi ha colpito soprattutto un ragazzo del carcere minorile che ha cantato in onore di suo fratello che è scomparso quattro anni fa. Una parola per descrivere questa esperienza è incredibile, è conoscenza, curiosità. Ci sono tante parole, non esiste se è una parola per descrivere questa bellissima esperienza. Grazie.